Grazie, ultima giornata dell'anno, giornata di spostamenti. Rai Pubblica Utilità, siamo collegati con Elisabetta Canale, dunque Alessandra Canale. Scusami Alessandra, buongiorno a te. Buongiorno, buongiorno Emanuela, buongiorno. Sì, come hai detto tu, grazie della linea, ultimo giorno dell'anno, che coincide anche con l'inizio della settimana, caratterizzata questa mattina da viabilità fluida sulla rete, nonostante la presenza di nebbia su molti tratti sia stradali che autostradali, con visibilità ridotta in particolare sulla 1, sulla 12, sulla 14, tra Ancona e Loreto, ma anche sulla 13, tra Rovigo e Monselice, e anche da presenza di vento forte sulla caserta Salerno. Ma come di consueto monitoriamo il real time, le immagini ci giungono in diretta dall'area milanese allo svincolo di Sesso San Giovanni, flussi veicolari vivaci in entrambe le carreggiate, e scendiamo alla dilammazione di Roma su, dalle porte della capitale, come vedete la viabilità è fortemente condizionata dalla nebbia, che riduce anche la visibilità, quindi la massima prudenza alla guida. Ma inizio nelle comunicarvi che per lavori c'è la strada statale 43 della Val di Nonne, chiusa tra Cles e Tassullo. E poi in questo momento si registrano dei rallentamenti motivati da nemischio in atto sulla strada statale 107 Silana Crotonese, il tratto è compreso tra Cerenzia e Camigliatello. Anche prima di concludere questo collegamento, le previsioni del tempo comunicateci dall'aeronautica militare indicano per quest'ultimo giorno dell'anno una variabilità in particolare al sud, con qualche piovasco, nubi in aumento sul settore adriatico, poco nuvoloso altrove. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, ci vediamo più tardi, restituisco a te la linea e buon fine anno a tutti. Grazie, buon anno Alessandra, a te e ai tuoi colleghi.